Il mio padre non mi vuole mandare a liceo artistico e guarda che vita di merda che faccio. Ecco, che suo amore. Agli ordini. Ernesto? Che piacere. È una mostra tutta mia. Con le tue cose migliori. Così gli diamo la bella svegliata a questo paese di Terroni. Ci vuole arte, non come a quello di tuo padre. Alzare la gonna ad una signorina vera, quello sì che è difficile. Poi, fratello, da qui se ne devi andare. E poi scusa per chiedermi far da serva a stucca da parte. Ma che serva è serva? Con una sorella come la tua madre? Che mi devo sposare a fare? Mi sono male. Io ho un altro giorno di malattia, poi devo tornare a lavorare. Perché può essere che mi mandano la vista fiscale? Ehi, la vista fiscale. Hai visto? Scappa, Gabriele, scappa, scappa. Dottore, papà sta molto malato. Sì, vai, vai, vai. Tu, Franca e Gabriele, siete tutto quello che ho. E soprattutto tu, che potresti essere mia madre, come mio padre. Ma mio fratello, maggiore, e già non la cosa, se permette, scusa. Oh, buonasera, maressallo. Mi raccomando, ricordatemi dalla morte. Certo, Rossetti, senti come non ho tante scuole. Rossetti, tu ti sei dato un compito impossibile. Tu non puoi stare sempre in guerra con tutti. Ma allora non hai capito niente. Tu gli puoi portare pure la gioconda di Giovanni Pascoli. Sembra una di schiena schifezza. E adesso, giudicate voi.